Questo treno di Natale dove tutti stanno male, questa gente appiccicata ai finestrini, quattro giocano a scopone, due si parlano d'amore, uno scappa, sta arrivando il controllore. In questo modo, canticchiando l'inizio della sua celebre canzone, il cantatore irpino Gerardo Carmine Gargiulo ha iniziato il suo discorso nella serata di ieri nel salotto di Platone di Piazzetta a Biagio Agnes. Ospite dell'Avelino Summerfest, Gargiulo ha raccontato quella che è stata la sua vita tra l'Ilpinia e la Lombardia, puntualizzando quanto sia importante, indipendentemente dai successi e dai treguardi raggiunti, conservare le proprie origini e difenderle sempre. Felice dell'invito, l'artista si è complimentato con la nuova amministrazione per il lavoro effettuato sul cartellone estivo, augurandosi che la sua terra natale possa ritornare come un tempo, ovvero per poter realizzare i propri sogni e i propri obiettivi non era necessario andare via. Perché in fondo, come dice stesso lui nei suoi versi, la paura è come un gioco, già si vive il giorno dopo ad Avellino. Sono estasiato da questo corso bellissimo, siamo tornati ai tempi belli quando c'era appunto tutta questa festa, tra l'altro il sindaco si chiama Festa, non poteva fare che una bellissima festa. Io ho la fortuna di non avere mai abbandonato del tutto, cioè Avellino è nel mio cuore, quindi la canto e quindi è sempre rimasta dentro di me. Chiaramente le origini e le radici irpine non si possono mica buttare così, assolutamente. Io sono irpino, sono nato a Solofra, ma qui ad Avellino ho studiato, quindi mi sento avellinese, mi sento irpino al 100% e cerco di trasmettere questa nostra irpinità nella mia professione di avvocato a Milano, nelle mie canzoni e quindi per me Avellino ormai è casa mia, come dico nella canzone Irpinia, Irpinia è casa mia. L'Avellino sicuramente ha bisogno appunto di ricominciare, di ripartire, mi sembra che abbiamo cominciato bene il primo passo, sto parlando sia da un punto di vista della città, della provincia, da un punto di vista diciamo politico-economico, ha bisogno assolutamente Avellino di ritornare, come dire, una città grande, una città che dà lavoro, una città dove i giovani, sì, chi si vuole spostare per avere un maggiore successo si può spostare, ma non deve essere obbligato a spostarsi, quindi bisogna creare anche delle infrastrutture, bisogna fare in modo che i giovani possano restare qui in Irpinia.